Buongiorno, ben trovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, lunedì 24 aprile 2017, oggi si venera San Fedele. Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro per vedere i titoli delle quattro edizioni del giornale Oggi Nedicola. Iniziamo con l'edizione di Epescara, vediamo quali sono i titoli principali degli argomenti trattati all'interno del giornale. Si parla anche nelle prime pagine delle altre edizioni dell'inchiesta sulla questione Pescara-Porto-Cofa. Atti pubblici ideati nello studio di Milia. D'Alfonso intercettato con Ruffini dice vai dall'avvocato per Pescara-Porto. Vediamo anche le altre notizie. Vandali in azione con i cortelli in Corso Umberto, danni ad un bar in pieno centro. Poi balneatori Montesilvano, piano spiaggia da rifare. In basso si parla di sport come ogni lunedì, in particolare del Pescara. Zeman sfida con il passato. Questa sera alle 20.45 allo stadio Adriatico, il posticipo tra il Pescara e la Roma. Il tecnico ieri nella conferenza stampa ha detto di non volersi prendere nessuna rivincita. Totti non c'è, resta il migliore, ha detto il tecnico Boemo, che poi ascolteremo nella seconda parte di mattino 6. E poi rischio incidenti, questa sera nella sfida sentita dalle tifoserie. In arrivo 2.000 supporters romanisti, città blindata. Lasciamo dunque la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Siamo all'edizione di Chieti, di primio senza più maggioranza. Chieti passa la mozione Udc Forza Italia sui debiti fuori bilancio. Il sindaco dice immaturi. E poi a Barcellona finisce 0-0, Bianconeri in semifinale. Ma qui forse c'è un errore, però, nella prima pagina del centro, che non è la prima pagina del centro di oggi. Allora vediamo un attimo di recuperare l'edizione di Chieti. Eccola qui, l'edizione di Chieti del centro, o forse dell'Aquila. Atti pubblici ideati nello studio di Milia, anche in questo caso. C'è il titolo principale che riguarda l'inchiesta, che vede, tra gli altri, indagato il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Vediamo anche le cronache. Siamo, come detto, alla prima pagina del centro dell'Aquila. Gran Sasso, acqua, scontro sulla presidenza. E poi Trasacco, grave giovane caduto con la moto in basso. Si parla sull'edizione dell'Aquila del centro di calcio, proprio in merito alla formazione rosso-blu. Pressioni su Chiodi si indaga. L'Aquila vince e va verso i play-off ultra nel mirino della Polizia. Ieri, per quanto concerne il calcio giocato, l'Aquila ha battuto in casa al stadio Gran Sasso d'Italia il Sant'Odoro, con il risultato di 4-0. E poi rugby, nero-verdi in semifinale, dopo il colpo a Recco. E siamo alla prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Pescara porta una lettera accusa. Il 15 marzo del 2016, il Genio Civile dichiara di prendere atto della regolarità del progetto in zona di rischio alluvione per gli inquirenti e la prova decisiva del favore alla società. E poi, vediamo ancora a centro pagina, Pescara vigilia calda, insulti a tre giocatori accaduto ieri lungo la riviera di Pescara dopo pranzo. Tre giocatori bianca-azzurri, poi vedremo anche nel dettaglio cosa è accaduto. Sono stati visti dai tifosi del Pescara proprio lungo la riviera e sono stati insultati dai supporters bianca-azzurri. E poi i bimbi terramani sempre più obesi, colpa della crisi, c'è questo articolo che riguarda proprio l'obesità, in questo caso dei bambini terramani. Quattro su dieci sono in sovrappeso, il record italiano confermato dal servizio Igiene Alimenti. E poi, verso l'estate, in basso, maggio teatino, venerdì, si parte con le manifestazioni proprio nel capoluogo teatino. In alto vediamo invece i richiami che riguardano lo sport, Lega Pro, Teramo pari a Macerata con polemiche per un gol annullato. Poi vedremo il servizio che abbiamo realizzato ieri all'Elvia Recina di Macerata. MotoGP, grande rimonda di Yamnone, nel Texas. E poi rugby, l'Aquila vince a Recco e vola in semifinale. Promozione, infine, l'articolo di Spalla, che parla del biotestamento, sull'articolo 1, arriva la firma della deputata abruzzese, Maria Amato. Lasciamo dunque le prime pagine dei nostri quotidiani. Possiamo andare a vedere, come sempre, l'edicola nazionale, andare a vedere i titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Ovviamente tutte le prime pagine dei giornali italiani sono incentrate sulle presidenziali in Francia, perché si profila una sfida al ballottaggio, al secondo turno, tra Macron e Le Pen. Questo è il risultato del voto di ieri. I voti non, diciamo, lo spoglio, non è ancora comunque definitivo. Partiamo dal Corriere della Sera. Francia, la sfida è tra Macron e Le Pen. Il candidato europeista dice si volta pagina. La leader dell'estrema destra libererò il popolo. Vedete le percentuali per quanto riguarda le presidenziali in Francia. Macron, che identifica un elettorato di centrodestra molto moderato, è arrivato al 23,5%. La leader dell'estrema destra al 22,1%. Poi vedete sotto gli altri sfidanti. Fion, 19,7%. Melencon, 19,5%. Proseguiamo. Siamo a Repubblica. Macron e Le Pen in gioco l'Europa. Anche in questo caso si punta sulla sfida ormai certa che ci sarà nel ballottaggio. E poi il fatto quotidiano. Ghigliottinati vecchi partiti. Il 39enne Macron, centro-sinistra. Infatti, dicevamo, un centrodestra moderato. Si parla di centro-sinistra, ma più che altro di lontananza dai partiti, diciamo, tradizionali. Un centrodestra molto, molto temperato al ballottaggio con Marine Le Pen, che identifica una destra molto, diciamo, estrema, se così la possiamo chiamare. Poi l'outsouder progressista, Mencon, uccide il Partito Socialista. Il vero sconfitto delle elezioni in Francia è proprio il Partito Socialista. I gollisti di Fion fuori per la prima volta. E poi vediamo altri titoli dal Fatto Quotidiano. Storia di copertina. Ieri, oggi e domani, il 25 aprile. E per sempre, perché domani ovviamente ci sarà la ricorrenza del 25 aprile, con tante manifestazioni che si terranno nel Paese e anche nella nostra regione. Poi parla Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, sui migranti mangiano tutti, non voti, ma verità, chiede il leader pentastellato. Il tempo di Roma, la rivoluzione francese, le elezioni vince la destra, sarà ballottaggio tra le penne Macron. Sinistra spiazzata via, gli sconfitti chiamano alla mucchiata contro il Front National, Ma Marin può farcela anche sulla identificazione politica di Macron. Ci sono, diciamo, visioni differenti, perché è difficile proprio identificare politicamente, in un centro-destra o centro-sinistra, il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti nella tornata elettorale di ieri. E poi vedete la fotonotizia che riguarda lo sport in chiave romana, perché all'Olimpico la Lazio travolge il Palermo per 6 a 2, stasera la Roma in campo a Pescara, come dicevamo prima. E siamo al messaggero, Macron-Le Pen la scossa, vedete il faccia a faccia ideale in questa foto tra i due leader che si affronteranno per prendere il posto di Hollande, il presidente uscente, presidenziali due candidati al ballottaggio, dice Macron, unirò il Paese, risponde la Le Pen, il popolo alzi la testa, gollisti e socialisti sconfitti e dicono appoggeremo il centrista e Macron. evidentemente, forse questa è la definizione più giusta, questa del messaggero, identifica un centro che evidentemente in Francia potrebbe davvero tornare al potere, tornare a governare il Paese dopo tantissimi anni, perché come abbiamo visto i partiti tradizionali, ovvero i gollisti di centro-destra e i socialisti di centro-sinistra, sono usciti sconfitti da questa tornata elettorale. E poi Melencon, il terzo, scelta secondo, coscienza, dice. Andiamo avanti, la stampa, il duelo che trasforma la Francia per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, esclusi, lo vediamo anche dalla stampa, i partiti tradizionali. Macron dice salviamo il nostro destino, Le Pen risponde, noi patrioti contro l'establishment. E siamo a Libero, Giletti fa affette fini, l'ex presidente, ieri sul Rai 1, le terecare mere dell'Arena inseguono l'ex leader di AN che minaccia, e la Tugliani che finge di non essere lei, si scopre che i due hanno mentito, oppure scrive Libero sulla cucina della casa di Monte Carlo. Ieri c'è stato questo servizio nella trasmissione di Giletti, l'Arena, proprio sull'ex leader di Alleanza Nazionale, tra l'altro ex presidente della Camera dei Deputati. In alto si parla anche in questo caso delle presidenziali in Francia, e voilà, Le Pen va forte, ma come abbiamo visto ha ottenuto il maggior numero di voti il leader di centro, Macron. Siamo al Gazzettino, svolto in Francia, sfida Macron-Le Pen, il candidato centrista al ballottaggio con la leader della destra. E poi il secolo XIX, il quotidiano genovese, Le Pen-Macron sfida finale. Vedete con il corredo di foto in basso, con i voti raccolti dai maggiori leader, Macron 23,2, Le Pen 22,7, poi Fion 19,7, Melencon 19%, il sole 24 ore, fisco per mezzo milione di liti, la chance della rottamazione. Questo è il titolo che riguarda il sole 24 ore. Siamo al quotidiano, l'arena di Verona, Macron-Le Pen in gioco, l'Europa svolta in Francia. E poi una notizia di politica che riguarda la Lega, o comunque Tosi, ex leghista. Salvini va al palasporto, ma è scontro con Tosi, che come molti sapranno si è allontanato dalla Lega, in cui aveva militato per diverso tempo. spostandosi più al centro con il nuovo movimento politico. L'Unione Sarda, quotidiano ovviamente della Sardegna, un salasso da 100 milioni, i conti nell'isola della manovra correttiva del governo, questo è un titolo ovviamente in chiave locale. Poi vediamo invece tematiche nazionali, internazionali in questo caso, perché si parla delle presidenziali in Francia. Sarà ballottaggio fra Macron e Marine Le Pen. E poi un titolo che riguarda il Cagliari, essendo sull'Unione Sarda. La sedicesima rete del solito borriello non basta. Rosso-blu, il Cagliari, battuti dall'Udinese dopo una prova opaca. Ma il Cagliari è abbondantemente salvo. La Gazzetta del Mezzogiorno, la Francia resta in Europa. Al ballottaggio sarà fronte comune pro Macron e contro la Le Pen. Il candidato riformista prenota l'Eliseo Marine. Il popolo si sveglia. E poi un titolo che riguarda il calcio e che riguarda anche il Pescara in maniera indiretta, perché il Foggia torna in Serie B dopo 19 anni, impazza la festa nella città pugliese e il prossimo anno. Il Pescara troverà nel campionato di Serie B un avversario tradizionale per dar vita ad un derby, perché così lo si può definire con il Foggia, un derby molto sentito dalle due tifoserie. Possiamo chiudere qui l'edicola nazionale. Abbiamo visto i titoli dei quotidiani, i maggiori quotidiani oggi in edicola. Possiamo dunque ripartire dai giornali di casa nostra, ripartire dal centro per tornare a parlare dell'inchiesta Pescara Porto, a pagina 2 del quotidiano Il Centro, oggi in edicola, D'Alfonso Intercettato. Ruffini, vai da Milia. Il caso giudiziario parte da una telefonata, una minuta ed un incontro nello studio del legale imprenditore. Le decisioni pensate fuori dalle sedi della regione, scrive Il Quotidiano Il Centro. E poi, a pagina 3, le analogie con l'inchiesta sul Megalò d'Alfonso nell'ufficio di Milia, quella mattina presto, alle 7.20. Andiamo avanti, vedete anche sul centro ovviamente si parla delle presidenziali in Francia. Francia al ballottaggio sfida Macron, Le Pen, i giovani in delirio per Emmanuel Macron. Cambiamo la politica. Primari e PD, Renzi, apre i 5 stelle sulla legge elettorale. Saltiamo velocemente le tematiche di politica e di cronaca nazionale per arrivare alla cronaca dalle province. Partiamo come sempre da Pescara, città blindata di vieti e controlli con 450 uomini. Porta Nuova chiude alle 17.45. Si parla ovviamente della partita di questa sera del Pescara con la Roma. Il mercato di Via Pepe, che si svolgerà questa mattina regolarmente, verrà smantellato in anticipo a mezzogiorno e mezzo. Via della bonifica inaccessibile dalle 18.00. Massima allerta per il match di stasera con la Roma, soprattutto dopo gli scontri di sette anni fa. Vediamo, il questore di Pescara Misiti dice servizi impostati al massimo rigore con un filtraggio molto rigido e rinforzi notevoli. Da parte nostra, dice il questore di Pescara, sarà tolleranza zero. L'assessore Cuzzi saranno raddoppiate le forze di Polizia Municipale e Attiva per liberare entro le 14.30 tutta l'area delle bancarelle. Mercato che si svolge tradizionalmente ogni lunedì a Pescara, proprio nel piazzale antistante, lo stadio Adriatico. E poi, domani vertice in provincia con Miniti, strade Oblimits dalle 6.00 fino a mezzogiorno. Domani sarà un'altra giornata importante, festa della liberazione. E a Pescara arriverà il Ministro dell'Interno, Marco Miniti, per presiedere un vertice con gli amministratori locali e le forze dell'ordine. Vertice organizzato dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. L'appuntamento è previsto nella Sanatinozzi della provincia alle 9.45. Dunque, domani sarà una giornata importante per Pescara con la visita del Ministro degli Interni. E poi le grandi opere, area di risulta, il via lo studio ambientale per fare il progetto. Andiamo ancora avanti, la polemica sempre a Pescara sul percorso ciclabile. La pista di via Aldomoro è necessaria, lo dice l'assessore Civitarese, che poi aggiunge l'opera promuove la mobilità. Stupisce l'esposto ai PM, dice l'assessore. E poi il ponte in legno, vedete a fondo pagina aperto a giugno, parte l'appalto per sistemare il percorso per le bici. Danneggiato dai vandali. Proseguiamo, siamo sempre a Pescara. La cronaca, vandali con il coltello in corso Umberto. Due ragazzi e una ragazza squarciano il tendone dell'Eccelsior. E poi ricorderete la vicenda di Donatella Grosso, questa ragazza scomparsa da Pescara il 26 luglio del 1996, addirittura 21 anni fa. Ennesima illusione per il caso di Donatella. Il ritrovamento di un cadavere compatibile per stato di conservazione e sesso a quello della giovane aveva riacceso le speranze. Ma il DNA dice che non è lei questa vicenda di cui si sono interessate per molti anni le cronache nazionali. E soprattutto la trasmissione di Rai 3. Chi l'ha visto? Andiamo ancora avanti. Bambini e compagni in campo per Daniele. Protirino in lutto per Daniele. Nobilio. E poi andiamo avanti. Bagnatori al comune. Piano spiaggia da rifare. Siamo a Montesilvano dove associazioni di categoria unite contro il documento dell'aggiunta. Aliano. Pronte le proposte per correggerlo. Basta con la politica degli spot. E poi da Montesilvano ci spostiamo a Francavilla. Parlare sempre di mare, di stagione estiva ormai alle porte. Gli stabilimenti, gestori degli stabilimenti dicono la stagione parte bene con il mare pulito. E poi la cronaca. Siamo in Val Pescara a Manopello. Fiamo a Sidrica per svuotare il Bancomat. Presa di mira la filiale Caripe. Ma l'arrivo dei carabinieri mette in fuga i tre banditi. In basso. Rigopiano premio a Gagliardi, comandante del soccorso alpino premiato dal Rotari di Termoli. E poi a Cepagatti apre un'altra casa dell'acqua naturale gassata a 5 centesimi al litro. E il quinto erogatore. Infine Spoltore da oggi torna in funzione. La Biblioteca Comunale. Ci spostiamo a Chieti per parlare della cronaca di Chieti. Chieti provincia sempre dalle pagine del centro. Promosso il mare della costa vastese. Buona notizia per l'estate. Da Tianta, ottimi. Da Torino di Sangro fino a San Salvo. Di Rito, Di Lorenzo e quattro sindaci. Molto soddisfatti. E da vasto andiamo ad Atessa. Sevel, 700 euro a testa ad un esercito di dipendenti. Arriva il conto Welfar. E poi in basso a Chieti, nella parrocchia della Madonna degli Angeli, festa per i cento anni di nonno Angelo. E siamo alla pagina dell'Aquila e della provincia. In particolare partiamo da Sulmona, dalla vertenza della Marelli. Perché la FIOM chiama i lavoratori allo sciopero. Oggi lo stop di ottore contro i licenziamenti ed il clima di tensione in fabbrica. E il deputato abruzzese Gianni Melilla interpella il ministro, dice enesimo gesto di arroganza aziendale. All'Aquila tagli sugli adeguamenti contrattuali. Il sindaco Massimo Cialente dice sui trasporti. La regione ci penalizza. In basso a Cocullo tornano i rintocchi sulla torre medievale. Riparato l'orologio e messa in sicurezza la struttura. E' tutto pronto per il rito di San Domenico che si terrà, che si tiene come ogni anno, il primo maggio nella località di Cocullo. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Crisi in comune, un patto su cinque cose da fare per salvare la giunta Brucchi. Si lavora per individuare priorità di fine consigliatura che vengano condivise da tutto il centro-destra. Solo poi si parlerà dell'esecutivo da escludere soluzioni estreme con assessori tutti esterni. Dalla crisi in comune di Teramo alla crisi al comune di Silvi, parla il Pasquale Arlini, ex delegato al commercio del comune di Silvi, che dice ecco perché ho fatto cadere Francesco Comignani, sindaco di Silvi, dove c'è stata la caduta proprio della giunta comunale. Lasciamo anche la pagina di Teramo del centro. Arriviamo alle pagine della cultura e poi dello sport. Dunque possiamo passare al messaggero anche in questo caso per andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. E poi nella seconda parte, come sempre, parleremo in maniera dettagliata di sport. Parleremo della gara, come abbiamo visto, molto attesa e anche a rischio incidenti di questa sera. Allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia alle 20.45 tra Pescara e Roma. A tal proposito vi ricordo l'appuntamento canonico con diretta stadio con Andrea Costantini per seguire in diretta, con i collegamenti ovviamente, dallo stadio adriatico in diretta, la partita tra i Biancazzurri e i Giallorossi. Poi parleremo anche di Lega Pro, vedremo il servizio del Teramo e i servizi delle squadre abruzzesi di Serie D. Ma andiamo per ordine, ripartiamo dal messaggero, pagina di Pescara, del inserto Abruzzo. Pescara Porto, ecco la lettera che spianò la strada al progetto. Il 15 marzo del 2015, il Genio Civile dichiara di prendere atto della regolarità degli interventi. Il giallo degli accertamenti tecnici, si parla ovviamente dell'inchiesta su Pescara Porto e l'ex COFA. E poi festa in comune con mamma e papà, il benvenuto del comune di Pescara ai nuovi nati. Vedete la foto della cerimonia che si è tenuta sabato mattina a Palazzo di Città. E poi invece la cronaca dalla Val Pescara, Manopello, colpo fallito alla Caripe, infuga la banda della lancia termica, pagina dell'Aquila, del messaggero strisce blu. Il comune accelera e dice riattivare le convenzioni per quanto riguarda proprio la segnaletica stradale. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta, ma per il rinnovo bisognerà attendere. Il nodo da sciogliere resta il debito via alla valutazione dei lavori post-sisma. E poi il dibattito, la crisi del mercato immobiliare in città, ci sono troppe abitazioni. E poi la politica con le elezioni ormai alle porte all'Aquila, elezioni amministrative. Forza Italia insiste di benedetto, deve dimettersi. In basso, esenzioni ticket alla compagna, indagato, impiegato del CUP. Invece poi per un flash di sport, volle femminile in serie Circus battuto dal Nereto in D. Il Torrione straccia la formazione del Chieti. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona. De Angelis lancio da Castello Orsini. L'ex assessore comunale sceglie per presentare la candidatura alla stessa arena del rivale Gianni Di Pangrazio, ma mitiga i toni. Parliamo in questo caso, ovviamente, essendo ad Avezzano, delle elezioni amministrative, perché anche nella città marsicana si torna al voto. Programma incentrato su microcredito e imprenditorialità. Poi saluta con scelte precise tutti i big presenti all'evento. E vedete quanta gente nella foto pubblicata dal messaggero. E poi provinciale Liri muore a 13 giorni dall'incidente. Leggiamo un attimo le prime righe di questo articolo. È morto dopo 13 giorni dall'incidente stradale Antonio Zursolo, ex direttore generale dell'Iri dal 1979 al 1988. La scorsa notte ad Avezzano, Zursolo, che aveva 93 anni, ha lavorato a lungo nelle partecipazioni statali. E dunque è arrivato questo lutto per il 93enne Avezzanese dopo 13 giorni dall'incidente stradale. E poi l'eroe di Rigopiano, il premio d'Andrea al maresciallo della Guardia di Finanza, Lorenzo Gagliardi, che vedete nella foto, che fu tra i primi ad arrivare con la sua squadra all'hotel di Rigopiano di Farindola. E poi a Sulmona, GAF istituzionale, chieste di missioni di marzo. E sempre a Sulmona, il licenziamento del caporeparto finisce in Parlamento. Siamo alla vicenda della Magneti Marelli. Tornando ad Avezzano, Acqua Summit al CAM con il ministro Madia. Il ministro effettuerà una breve visita nella sede del Consorzio Marsicano. E poi una notizia in breve che riguarda lo sport, il rugby in particolare. Giornata nera per Avezzano e Paganica. Entrambe battute. Pagina di Chieti del Messaggero. Tanti eventi e show per l'estate del maggio teatino. La settimana mozzartiana dal 9 al 16 luglio. Cluola Civitella con Albano e Notre Dame de Paris. Questi gli eventi importanti, più importanti del maggio teatino. Soprattutto dell'estate in città a Chieti. E poi spostiamoci ad Ortona. Erbaccio ovunque, le proteste dei cittadini. Ad Atessa, Sevele, sinistra italiana, chiede le indagini sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. E poi in basso, a Vasto, stagione balneare alle porte. C'è silenzio sul piano. Spiaggia, pagina di Teramo del Messaggero. Record negativo di obesità. Teramo prima in Europa. La crisi porta al consumo esagerato di pasta e carboidrati e merendine. Fai da te. Giulianova, la Giuliese Agnese Riccitelli in finale ad Italia Ghost Talent. Poi ancora Giulianova, le giostre bloccano gli ingressi. Momenti di tensione allo stadio. Fadini, Tortoreto, centrodestra, salta la nomination della Piccioni. E poi in basso, crisi di maggioranza. Siamo al Comune di Chiedi. Brucchi riparte dai consiglieri comunali. Infine Alba Adriatica, vigili urbani in azione. Blitz contro gli ambulanti. Siamo arrivati alle pagine dello sport, anche sull'inserto abruzzo del Messaggero. Dunque possiamo fermarci per qualche attimo. Poi torneremo in studio, come sempre, per la seconda parte di Mattino 6, interamente dedicata, come ogni lunedì, alla pagina sportiva. Seconda parte di Mattino 6, siamo alla pagina sportiva, come sempre, come ogni lunedì, molto ampia. Partiamo dal Messaggero per parlare del Pescara, la pagina dedicata ai Biancazzurri. Questa sera il posticipo alle 20.45 con la Roma allo stadio Adriatico. Pescara il giorno del giudizio, scrive il Messaggero. La squadra di Zeman ospita la Roma. In caso di sconfitta, la retrocessione in B sarebbe ufficiale. Il tecnico Zeman dice, sto adattando il mio calcio a questa squadra. E poi con i giallorossi assi di mercato piacciono i Bebi, Coli e Bordin. E poi vigilia agitata, tre giocatori del Pescara insultati all'uscita del ristorante. Si tratta di Caprari, Memusciai e Bruno. In basso le parole del tecnico romanista Spalletti, che dice occhio al contropiede Biancazzurro. Vediamo invece il centro, come presenta la gara di questa sera allo stadio Adriatico. Ile Pescara l'ultima chiamata, se perde con la Roma è Serie B. Zeman sfida la sua ex squadra e dice nessuna rivincita. E poi nella seconda pagina dedicata al match di questa sera, si parla anche della vigilia ad alta tensione faccia a faccia fra giocatori e tifosi. Al Lido Alcione, Caprari, Bruno e Memusciai aggrediti verbalmente da alcuni supporters. intervengono due pattuglie dei carabinieri e stasera gara a rischio incidenti. Tra l'altro biglietti per la partita Pescara-Roma che saranno in vendita fino all'inizio della partita. Dunque alle 20.45 nelle tradizionali rivendite e anche presso il botteghino della Curva Nord. Vediamo in questo grafico quali potrebbero essere i due 11 che scenderanno in campo. Pescara il 4-3-3, dovrebbe vedere Fiorillo in porta, Zampano, Bovo, Coda e Biraghi in difesa. Koulibaly, Overre, Bruno e Memusciai al centro campo. Benali, Baybec e Caprari in attacco. La Roma con il modulo 4-2-3-1, con Sersini in porta. Juan Jesus, Fazio, Manolas e Bruno Pers in difesa. Poi De Rossi e Struttman a centro campo saranno i due metodisti. Dovrebbero essere i due metodisti. Poi El Sharawi, Nainggolan e Salah, i trequartisti, con Dzeko unica punta di ruolo. Queste le possibili, probabili formazioni di Pescara-Roma. Andiamo ancora avanti, ma prima di vedere la doppia pagina che riguarda le altre partite di Serie A, andiamo ad ascoltare alcune delle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal tecnico del Pescara-Zeman, proprio per presentare Pescara-Roma. Per me è una partita come l'altra, una partita che viene dopo la Juventus e praticamente ci sono gli stessi stimoli da parte mia, cercare di fare buona figura. Ma io spero che i giocatori hanno la voglia di dimostrare contro la grande squadra che sanno anche loro qualche cosa. Come affrontarlo? Non è facile, ma io spero che ci riesce bene fase difensiva. Vabbè, io lo conosco. Per me, ripeto, concetto, per me è stato il più grande giocatore che ho avuto, che ho visto da vicino e quindi secondo me se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Io capisco che la situazione di oggi ci può levare la voglia, però lui ama paloma, ama calcio. Quindi se se la sente è giusto che continua, se non se la sente. Ma la situazione di oggi è definita il generale nel mondo del calcio o il diritto a Roma è una buona società? Allora, Roma, visto che lui gioca a Naro, aspettatevi una partita. Aspettatevi una partita. Io ripeto, io spesso giocavo con tipo 4-5-1 contro queste squadre, che poi è il problema di ripartire, di mettere in difficoltà la difesa partendo da più lontano. Io lo spero, perché noi in fase offensiva abbiamo fatto poco, a parte la prima partita con Genova. Il discorso è che magari con la Juve abbiamo giocato tre paloni dentro l'area dell'avversario. Noi ci alleniamo, io mi sforzo di mandarli dentro l'area, ma io ci attaccando i chi ci piace più costruire che attaccare la porta. Queste le dichiarazioni di Zeman. Zeman ha parlato anche di Totti, dicendo il giocatore più grande che ho allenato. Totti che questa sera non sarà della partita, perché è infortunato e dunque non convocato. Vediamo la doppia pagina dal centro sulla Serie A. Juve stellare, gole A dal Genoa, 4-0 per i bianconeri. Genoa che è a un punto dall'Empoli, che è quart'ultimo in classifica, dunque rischiano i rosso-blu. E poi la Lazio strapazza il Palermo, l'Europa Liga ad un passo, 6-2 per i bianco-celesti contro la formazione siciliana. Clamoroso a San Siro, Milan schiaffi dall'Empoli, De Sciglio litiga con i tifosi, 2-1 dei Toscani a San Siro. Milan contestato, gara che si è chiusa con quasi 8 minuti di recupero. Fallito anche un rigore dal Milan con Suso. Poi Napoli pari con rabbia, Sarri dice c'era un rigore 2-2 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo. E poi Inter, 48 ore a riposo, poi Pioli verso l'addio, Suning furioso, il patron nerazzurro. E poi Chievo Torino 1-3, Belotti di Giunama e Super Toro. Chievo in crisi è contestato, Udinese Cagliari 2-1, al Cagliari non basta Borriello. L'Udinese vince con orgoglio. Infine l'ennesima vittoria del Crotone, altri tre punti per sperare. Falcinelli e Simi piegano la Sampdoria. Nicola dice ragazzi straordinari, ma la vittoria dei calabresi è stata in un certo senso vanificata dal successo dell'Empoli a Milano. Siamo alla pagina della Lega Pro, il terramo non sfonda, ma la salvezza diretta è ancora possibile. Ma sicuramente difficile da raggiungere. I risultati di Mantua e Forlì tengono in corsa i Biancorossi. Annullato un gol a Speranza per un fuorigioco molto dubbio. E poi al novantunesimo il tecnico Ugolotti, piuttosto rabbuiato in volto, dice una rete l'avevamo fatta e poteva bastare. In basso le dichiarazioni di Amadio. Ma cosa ha fischiato l'arbitro? Non so, secondo l'attaccante Petrella. Poi è mancata la cattiveria. Ma le occasioni, ha detto il giocatore Biancorosso, le abbiamo create. Vediamo anche dal messaggero come si parla di questa partita. Terramo un solo punto fa storcere la bocca. Macerata finisce 0-0. I Biancorossi di Ugolotti avrebbero dovuto vincere per la lotta play-out. Polemica per un gol annullato a Speranza nella ripresa. E poi Ugolotti su tutte le furie. Fratangelo alla Berretti. Ha detto il tecnico, si allenerà con la Berretti. Il giocatore non ha accettato di entrare, ha detto il tecnico, per spiegare questa decisione. Gol annullato perché si è chiesto il trainer Biancorosso. E poi Petrella e Amadio dicono dobbiamo crederci. Ma ovviamente dopo il pareggio di ieri è più difficile per il Terramo raggiungere l'obiettivo, il traguardo della salvezza diretta nel prossimo turno Biancorossi di scena al Tardini di Parma. Ma andiamo a rivivere la gara dell'Elvia Recina di Macerata nello 0-0 di ieri. Vediamo il servizio. Nella sfida tutta Biancorossa il Terramo fallisce un importante e decisivo match ball per avvicinare la salvezza diretta con i play-out ormai dietro l'angolo. All'Elvia Recina la gara fra la Maceratese e i Biancorossi termina senza reti con la squadra di Ugolotti che recrimina per un gol annullato a Speranza per un fuorigioco davvero molto dubbio. Si comincia con un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista marchigiano Michele Scarponi scomparso tragicamente ieri in un incidente stradale. La Maceratese alle prese con grossi problemi societari presenta la formazione annunciata con il 4-3-1-2 con Colombi Allegretti di punta. Nelle 4-4-2 del Terramo Petrella gioca al posto dell'acciaccato Spighi. In avanti spazio alla coppia Barbuti-Sanzovini. Al secondo Barbuti sul filo del fuorigioco serve al centro per Sansovini. anticipato al momento della conclusione la squadra di Ugolotti si lascia preferire per una maggiore fluidità di gioco e dopo una fase di equilibrio al 26esimo c'è una fiammata del Diavolo con una sassata dai 20 metri dell'ex pescarese che mette di pochissimo a lato. La gara non regala grandi emozioni con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centro campo. Nel finale al 41esimo sui piedi di Colombi capita la più ghiotta delle occasioni per sbloccare il punteggio dell'attaccante martigiano che va a concludere incredibilmente alto. L'ultimo acuto del primo tempo è ancora degli ospiti e sempre ad opera di Sansovini che prima del limite mira l'angolino mettendo ancora fuori di poco. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara e con l'equilibrio a farla da padrone. Al settimo si vede la squadra di casa con De Grazia che conclude fra le braccia di Narciso. Alle decimo Ugolotti decide di operare la prima sostituzione mandando in campo Carraro per Petrella. Al tredicesimo il Teramo trova il vantaggio con un gran gol al volo di Speranza prima convalidato e poi annullato da Bertani di Pisa per un fuorigioco che in molti dalla tribuna non vedono. Al diciassettesimo Giunti richiama in panchina Colombi mandando in campo Palmieri in gol nella gara vinta all'andata dai marchigiani al Bonolis. Il match si mantiene bloccato ed equilibrato anche se al ventitresimo è De Grazia ancora ad approfittare di un pallone perso a centrocampo dagli abruzzesi andando poi a concludere di poco a lato. Al ventisettesimo arriva la risposta del diavolo con Sansovini che in scivolata in aria non riesce a dar forza la sua conclusione. Passano due minuti ancora a De Grazia fa correre un brivido alla difesa teramana. Ugolotti poi getta nella mischia anche Masocco per Di Paolo Antonio con il Teramo che tenta nel finale il tutto per tutto mancando però in concretezza e al novantunesimo scoppia anche il caso Fratangelo. Questo è il servizio sullo 0-0 fra Maceratese e Teramo. Ieri tra l'altro vi avevamo proposto anche nel corso della trasmissione di Jacopo Forcella a Bruzzo del Pallone anche le interviste del novantunesimo che vi riproporremo ovviamente anche oggi nel corso del TG6. Andiamo avanti per parlare ora di Serie D per aprire la pagina sul campionato interregionale partendo dall'Aquila, l'Aquila a Valanga sul San Teodoro, Vittoria Netta per il Rosso Blu con il risultato di 4-0. Greco, bella prestazione nonostante le difficoltà, il vice allenatore sostituiva in panchina Battisti e Battistini, pardon, squalificato. Vediamo anche dalla pagina del centro qual è il commento sulla vittoria dell'Aquila. L'Aquila a quattro passi verso i play-off, 4-0 con il San Teodoro, calciatori applauditi sotto la curva. Vogliamo centrare gli spareggi, dicono i ragazzi di Battistini e noi allora andiamo a vedere il servizio realizzato su questa rotonda vittoria della formazione aquilana. Il San Teodoro esce pesantemente sconfitto per 4-0 il Gran Sassu Italacconcia dell'Aquila, un perentorio calcio-poker maturato al termine di una grande prova del Rosso Blu di casa contro una squadra che si trova a lottare tenacemente per salvare la stagione. Coerentemente con l'incursione in sala stampa di ieri, gli Ultras Rosso Blu ci tengono a ricordare ancora una volta ciò che conta davvero per loro. Uno striscione, questa volta non rimosso dalla società, recita a chiare lettere. Pagate l'IVA, cedete gratis alla società, al resto penseremo noi. Mister Battistini è in tribuna per squalifica. In campo dal primo minuto non ci sono Pepe e Dictevicius per permettere il pieno recupero. Solo Dictevicius troverà posto nell'ultimo quarto d'ora. Pagate anche per Gagliardini è entrato solo nel secondo tempo, che in settimana non era sembrato al top per alcuni problemi fisici. La prima azione è della squadra di casa a calcio d'angolo per l'Aquila. Esposito ci prova di testa, palla alta. Due minuti dopo il San Teodoro risponde con convinzione, cross di Ibba. Gentile riceve la palla in area, ma dalla sinistra al suo tentativo la ottima posizione termina di poco fuori. Al dodicesimo tiro cross di Valenti che attraversa l'area e viene quasi sfiorato da Peluso ancora una volta la sfera va fuori. Una splendida finta di Peluso mette in movimento al diciannovesimo Minimpleri, ma il capitano sbaglia l'apertura. Un minuto dopo Valenti ci prova dai venti metri, ma il risultato non cambia. Al ventinovesimo ancora una buona occasione per il San Teodoro. Colpo di testa centrale di Ibba, ma Farroni non si lascia beffare. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo. Angolo dalla sinistra Minimpleri, la respinta è di Corsi, viene rimessa ancora in mezzo per Esposito che non si fa pregare e gira verso la porta e può festeggiare la rete con tutta la squadra. La ripresa si apre con un scambio tra Peluso e Minimpleri. Il capitano tenta con un tiro a giro di raddoppiare, ma la sfera viene deviata in angolo. L'Aquila è più convinta e al quinto arriva il raddoppio. A realizzare la seconda rete del match è Valenti. Perfetto e spettacolare esterno sinistro dell'attaccante rosso-blu liberato da Noman, che festeggia sotto curva. Ma trascorrono solo due minuti e arriva il terzo gol per l'Aquila. A siglare questa volta è Minimpleri con Valenti in veste di rifinitore, sempre sul lato sinistro. Il Sant'Odoro cerca di alleggerire, ma la punizione di Malesa al decimo del secondo tempo è poca cosa. L'Aquila non si accontenta ed il 4-0 arriva il 23esimo. Finalmente a metterci la firma è Daniele Noman, dopo vari tentativi nel corso del match, sciupati in malomodo. Hanno fatto quello che in settimana avevamo preparato e quindi tutto quello di buono l'abbiamo tirato fuori, che avevamo, e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Il mio obiettivo ora è arrivare ai play-off con questa squadra, perché sembra una cosa facile, ma dopo tutto quello che è successo sarebbe un grande traguardo. Abbiamo fatto delle ottime partite. Tutte queste situazioni che stanno succedendo un po' possono creare problemi poi quando entriamo in campo, però noi abbiamo formato un bel gruppo, ci alleniamo sempre al massimo durante gli allenamenti e cerchiamo di andare in campo per raggiungere i tre punti. Io ho visto una partita un buon primo tempo dove abbiamo retto bene il campo, abbiamo avuto anche qualche occasione per poterlo sbloccare. Poi abbiamo preso questo gol su un calcio d'angolo al finire del primo tempo, quindi un pochettino ci ha spezzato un po' le gambe, perché secondo me fino a quel momento lì non avevamo demeritato. Guardando il secondo tempo devo dire che la squadra è entrata in campo con il ritmo un pochettino più bassi e l'Aquila ha giocato un'ottima partita. Abbiamo ascoltato anche le impressioni dei protagonisti al 91esimo della gara del Lito Acconcia Gran Sasso d'Italia. Gara vinta come abbiamo visto dall'Aquila per 4-0 sul Sant'Odoro. Siamo sul Messaggero per l'Avezzano, ancora dunque il girone G, capo con onore, biancoverdi battuti 2-1 sul campo della capolista Arzachene. Poi un pileto rilassato, cede in casa al Monticelli Marchigiani che si impongono per 3-1. Andiamo a vedere l'altra pagina con il derby del Bonolis fra San Nicolò e Vastese. San Nicolò bastano pochi minuti, Terramani travolgono 3-1 la Vastese con una tripletta in avvio di partita. Al 91esimo Epifani dice il secondo posto della nostra portata, volevo il riscatto e il primo tempo, spiega il tecnico del San Nicolò. È stato perfetto, Favo ammette, non sono riuscito a motivare la squadra. Quasi un segno di resa del tecnico Vastese che probabilmente al termine della stagione non sarà riconfermato. Andiamo a vedere ora dalle pagine del centro i commenti sulle altre gare delle formazioni abruzzesi. San Nicolò super Traini, la Vastese al tappeto, la doppietta del Bomber, decide il derby. Napolitano esordio con gol. E allora andiamo a vedere, lasciamo lo spazio alle immagini, questa vittoria del San Nicolò nel servizio di Ania Cantagalli. Un derby deciso nella prima mezz'ora di gioco. Finisce 3-1 la sfida del Bonolis tra San Nicolò e Vastese con i biancorossi d'Aragona che pagano un approccio alla gara fin troppo gentile. Entrambe le squadre devono riscattare un K.O. casalingo nell'ultimo turno del campionato. Epifani deve rinunciare ancora a Petronio, oltre a Moretti, Pretara e Napolano, mentre dall'altra parte Favo ha il solo romano indisponibile. La Vastese ha un approccio da dimenticare perché in meno di mezz'ora il San Nicolò mette in cassaforte il risultato. Per due volte Traini viene lasciato troppo solo in area. Nella prima occasione, dopo solo tre minuti, l'azione si sviluppa dalla sinistra e di Benedetto serve centralmente il compagno di squadra, libero di indirizzare di testa alle spalle di Marconato. Al quarto d'ora è ancora Traini a far male al biancorossi. Questa volta si passa dalle parti di Massetti, per poi finire con la doppietta dell'attaccante biancazzurro che sigla il 2-0. La Vastese non c'è ed il San Nicolò riesce a firmare anche il Tris. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Mozzoni viene atterrato in area da D5. Per il direttore di gara è calcio di rigore che trasforma dal dischetto Bisegna. I biancorossi provano a reagire d'orgoglio. Traini muro un tentativo ravvicinato di Bartoli e qualche minuto dopo Fiore ci prova dalla distanza ma il destro finisce di poco alto. Favo prova a riaprire la contesa inserendo un attaccante in più, felici, e facendo uscire il difensore Bartoli. E il San Nicolò però ad andare ancora vicino al gol. La capucciata di Traini questa volta però trova marconato. Nella ripresa i biancorossi provano a reagire. Timide proteste al tredicesimo per un contatto tra Galizia e Ciotti con il direttore di gara che lascia proseguire. Poco dopo Prisco ci prova dalla distanza con il portiere biancazzurro che alza la sfera in angolo con la palla poi che sfiora anche la traversa. Galizia al diciassettesimo fa fuori diversi biancazzurri e mette in mezzo un pallone che attraversa praticamente tutta la linea di porta senza che però nessuno riesca a segnare. I biancazzurri di casa si limitano poi a controllare una vastese che fa sì possesso palla ma che non riuscirà a creare grossi pericoli dalle parti di Ciotti. Nel finale invece Chiacchiarelli, ottima gara la sua, centra in pieno una traversa. Uno slalom dalla destra di Napolitano regala invece ai biancorossi il gol della bandiera. Per la vastese è una sconfitta che chiude di fatto le speranze playoff mentre il San Nicolò ha ancora due giornate per cercare di agguantare il secondo posto. E ora andiamo a vedere il servizio sul Pineto. Pineto che cede al Monticelli come leggiamo dal centro. Non basta pomante. Marchigiani più motivati. Marchigiani che si impongono con il risultato di 3 a 1. Roberta Di Sante. Il Monticelli espugna il Mariani Pavone di Pineto battendo per 3 a 1 la squadra di casa e tenendo così accesa la speranza playoff. Vince la squadra con le motivazioni maggiori ma in campo è stata partita vera fino al novantesimo. Nelle fila del Pineto in casacca nera torna Mazzocchetti tra i pali mentre a centro campo Cacciatore prende il posto dell'infortunato Proietti. In avanti parte Palumbo. Dall'altra parte Stallone recupera. In difesa dopo la squalifica il capitano Sosi mentre in avanti il tridente composto da Negro, Giovannini e Pedalino. Dopo un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi l'arbitro Cascone dà il via all'ostilità con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e i primi minuti scivolano via sul filo dell'equilibrio. Il primo vero sussulto al diciannovesimo quando Pedalino va in gol ma la rete viene annullata per un fuorigioco parso dubbio. Il Pineto risponde al ventiseiesimo con l'incursione di Cacciatore e la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Pedalino dalla parte opposta non riesce ad impensierire Mazzocchetti di testa mentre al 34esimo Marani si fa trovare pronto sulla conclusione dal limite di Mariani. Ma nel finale proprio quando ci si appresta a rientrare negli spogliatoi sullo 0 a 0, Jotti vede Mazzocchetti fuori dei pali e si inventa una gran conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle dell'estremo locale. In avvio di ripresa il Pineto spinge alla ricerca del pari. Al settimo un altro episodio da rivedere. Cacciatore dal fondo mette in mezzo un insidioso tiro cross. Serie di batti e ribatti sulla linea con la sfera che poi viene allontanata dalla difesa. Per il direttore di gara la palla non varca la linea di porta. È il preludio al pareggio abruzzese che arriva un minuto più tardi con Pomante che di testa insacca sul traversone di Stacchiotti per un gol confezionato dalla difesa. Fase favorevole ai padroni di casa che al dodicesimo provano anche con Ciarcelluti che se ne va tutto solo sulla sinistra e in diagonale impegna Marani. Al quarto d'ora però gli Ascolani si riportano in vantaggio quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Sosi rimette in mezzo dalla sinistra impegnando Mazzocchetti. Sulla respinta è pronto Giovannini che piazza la sfera all'altezza del secondo palo. Ora il Pineto subisce l'agonismo del Monticelli che nel frattempo ha saputo che la fermana è avanti sulla San Maurese e cerca di chiudere la gara. Alla mezz'ora pedalino spreca incredibilmente la palla del possibile 3 a 1 per gli ospiti che rischiano il pari al quarantaquattresimo quando sulla traversone di Logoluso Sacchiotti riesce solo a spiorare ma non ad imprimere la necessaria forza alla sfera per superare Marani. E nel finale il Monticelli in contropiede chiude definitivamente i giochi con Negro che servito da Giovannini fissa il risultato sul definitivo 3 a 1. Una vittoria che non vale il quinto posto per via della rimonta della San Maurese sulla fermana nel finale ma che tiene aperta la corsa playoff. Sconfitta che non pregiudica nulla per il Pineto al quale va dato atto di essersela giocata fino alla fine. 1 a 3, Angolana, Alba Adriatica 0 a 2, San Salvo, Francavilla 1 a 4, Virtusteramo, San Buceto 4 a 2. Tante le vittorie in trasferta. In classifica al comando Nero Stellati e Martin Sicuro con 65 punti, Alba Adriatica 60, Paterno 59. Andiamo ancora avanti per vedere nel campionato di promozione. Real Giulianova blinda Piccioni dopo la goleada. Giulianova già promosso da due giornate. 6 a 0 con il controguerra. La Torrese scatenata passa per 3 a 1 sul campo del Celano. Nel girone bicchietti K.O. a Val di Sangro si fa rimontare. 4 a 3 per la formazione sangrina. Spoltore vittorioso sul campo del Silvi. Ci pensano Grassi e Di Camillo. Andiamo velocemente alla pagina che riguarda il basket. Si erano già disputate sabato le gare di Serie A 2 con il Roseto che è già nei play-off e guarda al secondo assalto alla Serie A. Il sogno dei Biancazzurri passa per la sfida al Legnano. Invece il Chieti, la Proger Chieti che si giocherà la salvezza con la formazione della Viola punta sul fattore campo. La società pensa ad abbassare il prezzo dei biglietti per la prima gara. E poi il rugby. Vedete l'Aquila vola in semifinale con un turno di anticipo. Gli Aquilani passano sul campo dei Genovesi della Prorecco per 6 a 3. Granzasso supera i Cavalieri Prato per 14 a 10 e vede la salvezza. Infine il ciclismo. Marcellusi e Fragassi dà applausi ai vincitori delle gare della domenica per quanto riguarda le due ruote dilettantistiche nella nostra regione. Prima di salutarci abbiamo il tempo per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Oggi in edicola come facciamo ogni lunedì. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che titola in maniera ironica sul K.O. di Inter e Milan nel weekend il derby del pianto rossoneri e nerazzurri in fuga dall'Europa. È proprio il caso di dire. Poi Juve più 11 di Bala di Verde. Bonucci chiude i conti con il Genoa a lungo in vetta. Siamo al Corriere dello Sport. Pioli mi dimetto ma il Milan lo salva. Inter ancora in corsa per l'Europa grazie al K.O. rosso-nero. Keita, tripletta, immobile e due gol fanno volare la Lazio. Dunque Pioli era almeno pronto a lasciare la panchina dell'Inter. Poi Sinfonia Juve. Genoa travolto 4 a 0. Scudetto sempre più vicino. E poi il Napoli con la furia di Sarri sull'arbitro D'Amato. Va subito fermato. Infine tutto sport. Vendetta Scudetto. La Juve cancella il Genoa e il K.O. dell'andata. E poi si può diventare gran toro. La vittoria ieri dei Granata. E poi vedete a centro pagina polveriera Milan aggredito De Sciglio. figuraccia dei rossoneri contro l'Empoli. A fine gara si accende un parapiglia fra il terzino e i tifosi. Infine un richiamo di motociclismo. Vale di nuovo re del mondiale. Nel MotoGP vince Marquez. Rossi secondo. E siamo dunque giunti al termine dell'appuntamento di lunedì 24 aprile con Mattino 6. Io ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Vi ricordo gli appuntamenti informativi della giornata partendo dalla prima edizione del TG6 quest'oggi alle 14. Ma vi rimando anche a questa sera dalle 20.30 con Diretta Stadio in studio Andrea Costantini per seguire la gara dello Stadio Adriatico il posticipo di campionato fra Pescara e Roma. È davvero tutto. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie a tutti.